Buongiorno a tutti, sono Michele, buongiorno a tutti, sono Michele, 3146, benvenuti a Nola con DOOM, il filmo, benissimo, giochiamo, giochiamo. Grazie a tutti. 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 E' carino. Grazie a tutti. 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 Andiamo a vedere se siamo online. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.